Grande Fratello Grande Fratello, svelati i dettagli della casa e il ruolo del pubblico, diretta Grande Fratello Condotto da Barbara Durso in onda tra poche ore la prima puntata. Manca poche ore alla prima puntata del Cancelletto Grande Fratello, condotto da Cancelletto Barbara Durso Dopo ben 15 anni, ritorna a grande richiesta al timone La Regina di Pomeriggio 5 e Domenica Live, ma non nasconde la sua preoccupazione prima del debutto, sono due settimane che non dormo, ho lansia da prestazione. A il suo fianco ci saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Barbara Durso ha annunciato che protagonista del reality show saranno le storie di ogni singolo concorrente e il monte premio finale è di 100.000 euro. Il format per la nuova edizione del Grande Fratello è sempre lo stesso, i concorrenti saranno 14 e resteranno nella casa più spiata dItalia per due mesi. Alcuni volti sono però conosciuti agli occhi del pubblico a casa. Ci sarà Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzoppane e Lucia Bramieri, 57 anni, figlia di Gino Bramieri. Per tre concorrenti, invece, il gioco è già partito da alcuni giorni, Filippo Contri, Simone Coccia, Valerio Logrieco, sono rinchiusi in un casale di campagna e svolgono attività come spaccare la legna, mungere le mucche, preparare i pasti. Il pubblico li ha conosciuti attraverso Pomeriggio 5. La casa del GF. Rinnovata completamente la casa si presenta in una superficie di 825 mq, dotata di tutti i comfort come piscina, suana e ampio giardino. Non mancherà il Tigurio, altro best zone del reality show che è stato soprannominato Lido Carmelitta. La casa sarà poi circondata da un nuovo e interattivo sistema di videosorveglianza dotata di 106 telecamere controllate attraverso touchscreen e solo 10 saranno presidiate. Il ruolo del pubblico a casa. Affare da padrone sarà il pubblico a casa ma non solo attraverso il televoto. Per la prima volta, i fan del reality show potranno influenzare le dinamiche allinterno della casa scegliendo delle missioni da affidare ai concorrenti come nascondere gli occhiali ad un altro concorrente, finire tutta la razione di cereali. Il live del grande fratello sarà mandato in onda su Mediaset Extra dalle 10 alle 02 di notte.